E' in corso al magazzino 26 del Portovecchio la terza edizione della Biennale Internazionale Donna. La curatrice della mostra di quest'anno è Gabriella von Habsburg, scultrice di fama internazionale, supportata da un comitato scientifico che comprende Pamela Berri, Carmen Korak, Luisa De Marinis, Barbara Luisi, Victoria Ogley, tutte provenienti dal mondo dell'arte contemporanea, con una lunga esperienza nel campo della progettazione, cura e produzione di mostre ed eventi culturali. Le 79 artiste in mostra hanno interpretato il tema delle trasformazioni silenziose attraverso linguaggi e declinazioni diverse, chi ponendo l'accento sulle questioni ecologiche e sulle trasformazioni del mondo naturale, altre indagando le relazioni sociali e tra i sessi, altre riflettendo sull'identità femminile in relazione al corpo e ai linguaggi artistici codificati. Alla base un saggio proposto da François Julien, perciò in molte delle opere l'effetto di realtà arriva proprio dritto in faccia, procura un turbamento necessario per riflettere. Hanno aderito all'invito ad esporre anche artiste affermate, con opere esemplari in grado di rappresentare in modo coerente il tema, ovvero le forze consolidate della loro creatività, interpretando la società destabilizzante, le ferite dell'ambiente, un sentire del tempo e della memoria. I diversi linguaggi espressivi hanno comunque una coscienza dell'agire comune.